Alle parole nostre, uno bello, prometeo, sappi che esse possono fare di presi un santo o un pazzo. Non sperare di trovare qui l'oggetto dei tuoi desideri egoistici, né fortuna né gloria terrena, ma si sembra pronto ad essere deriso come un visionario, evitato e cacciato come retropo. Niente ti leghi qui, sei non desiderio di ciò che disseta durevolmente. Se sei figlio del mondo, vattene, che qui perderesti il tuo tempo. Se non lo sei, sappi che il mondo cercherà di farti suo con la fortuna e la miseria, la prosperità e la fame, chi molto promette, molto deve mantenere. Qui nulla ti sarà promesso, ciò che è tuo per diritto non ti sarà dato, potrai veramente prenderlo. Ma se non sei pronto, non avrai che disillusione e disinganno. Noi siamo per tutti, ma solo quelli che possono comprenderci sono per noi, sono nostri. Questo è l'avvertimento scritto a caratteri di fuoco sulla gente che ci separa, ma che permette di comunicarci. Abbiate il vostro, agli altri. Grazie. 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 Grazie.